Il prossimo 4 febbraio deve rappresentare il momento definitivo per addivenire ad accordi condivisi, condizione necessaria e non derogabile per la gestione di tutte le dinamiche che ruotano intorno a questa vicenda. Lo scrivono in una lettera inviata al sindaco di Palermo, Luca Orlando, i sindacati Wiltux Will, Filcams CGL, Fisaskat CISL, USB, Conf Lavoratori, Alba e CISAS, a proposito dell'avvertenza della GESIP, la società di servizi del comune di Palermo in liquidazione. Nella missiva inviata pure al prefetto, al presidente della regione e al consiglio comunale, le segreterie esprimono il proprio rammarico per l'ulteriore dilazione, seppur derivante da un previsto incontro con il Ministero del Lavoro per la prossima giornata del 30 gennaio. I sindacati sottolinano che il secondo confronto in sede tecnica aveva e continua ad avere lo scopo di definire gli assi fondamentali dell'avvertenza aperta. A tal fine, pur non volendo oggi entrare nel merito di proposte che ci riserviamo di fare all'esito del confronto in sede ministeriale, le scriventi intendono comunque chiarire alcuni aspetti ritenuti fondamentali e scarsamente negoziabili. Il corpo dell'avvertenza, scrivono ancora, nei suoi atti fondamentali deve svilupparsi e concretizzarsi di un tavolo di trattativa che non può essere che quello del comune di Palermo e le ipotesi di accordo dovranno essere, per gli aspetti più rilevanti, immediatamente esigibili e quindi non subordinate a livelli di decisioni ascrivibili a soggetti terzi, che potranno certamente essere coinvolti ma su un progetto strutturato e credibile, anche in considerazione della mancata partecipazione dei sindacati agli incontri ministeriali di cui, conseguentemente, ne ignorano le dinamiche di contenuti. Inoltre, i sindacati ritengono che la concessione della cassa integrazione in deroga possa essere esigibile per altri quattro mesi soltanto se tale richiesta, analogamente a quanto già evidenziato per la prima erogazione, si colloca all'interno di un contesto definito nei suoi aspetti fondamentali, che non potranno rimanere né vaghi né incerti. Nelle sue operatività, nei tempi di realizzazione e nelle effettive ricadute sui lavoratori e sui servizi da rendere alla città. E sull'aspetto riguardante i servizi, i sindacati esprimono forti perplessità. Considerato il piano di utilizzo del personale, consegnato alle organizzazioni sindacali nell'incontro del 17 gennaio scorso, non appaiono comprensibili talune scelte già in itinere, compiute dall'amministrazione comunale riferita all'affidamento, appalto e assegnazione ad altri soggetti terzi. Le sigle ritengono infatti che anche in considerazione dei vincoli esterni che su tale materia potranno produrre effetti nell'arco dei prossimi 12 mesi, tale partita è tutta da scrivere e dipende in primo luogo dalle volontà di effettivo utilizzo dei lavoratori e delle strumentazioni che saranno adottate per raggiungere tale obiettivo. Secondo i sindacati, il tempo a disposizione è ormai diventato estremamente esiguo e non più sottoponibile ad ulteriori rinvii. Si aspica che per il 4 febbraio il comune di Palermo si presenti con altrettanta disponibilità nel tentativo di scrivere la parola fine su questa tragica partita che assume ogni giorno sempre più i connotati di una macelleria sociale che tutti hanno giurato di volere scongiurare.